Anche se viaggia spesso, spessissimo, sia per proporsi che per ritirare i titoli, a cui non riesce ad abituarsi, perché ogni volta il traguardo è sempre più grande, fino all'ultimo. Parto dalla fine perché nel 2021 lei è diventata campionessa mondiale nel solo Latin VDO con Israele, Spagna, Inghilterra e Macedonia, ma ancora prima ha studiato con diversi istruttori, tra cui le eccellenze della danza e anche chi per esempio ha curato l'opera Notre Dame de Paris. Sì, ballerina pripista nel 2006, attualmente è allieva di Luca e Luana Fanni e poi è stata pluricampionessa regionale, nazionale e come vi ho già detto anche mondiale. Ha solo 21 anni e ha già fatto tutto questo. Un applauso per Maria Adele Piano. Eccola qua. Vieni Maria Adele. Questo è l'applauso. Gli assemini per te. Abbiamo un microfono e poi ti lasciamo perché credo che avrai qualcosa per noi, non vai via così subito, vero? No, ma ho portato qualcosa. Ci hai portato qualcosa. Allora, 21 anni, Luca e Luana, io li conosco da tanti anni e veramente ho molta ammirazione per loro e per tutto quello che hanno fatto nel tempo e credo che tu sia d'accordo, ovviamente, su questo fronte. Però stasera cosa ti senti di dire alla tua città da semini? Perché vorrei riportarvi dentro la dimensione che stasera vi ospita, dove tutto nasce in fondo. Voi partite da qua. Io in realtà ho iniziato a studiare danza qua quando avevo due anni e mezzo. Ho iniziato prima col CDM e mi ricordo, l'ho detto proprio appena sono arrivata qua, il mio primo stagio di danza l'ho fatto proprio qua all'anfiteatro. Mi ricordo che era pieno di gente, avevo appena tre anni ed ero scoppiata a piangere. Poi ho scoperto, avevo fatto il stagio di danza classica, poi ho scoperto la danza latinoamericana, avevo iniziato a studiare con Martin, poi ho girato un po' tutta la Sardegna fino ad arrivare fuori, insomma, maestri come Dasha Cesnokova, Maurizio Vescovo e altri. Comunque a semini mi ha sempre dato la possibilità di spaziare anche in altri ambiti e poi, vabbè, ci sono numerosi talenti qua da semini. E stasera ce ne stiamo rendendo conto. E anche bravi maestri. E assolutamente sì. Stasera che cosa ci regali per questa tua rimpatriata? Allora, è un pezzo un po' artistico, è un mix tra paso doble e samba, non è un pezzo di latino classico, infatti non ho neanche le scarpette classiche, però, insomma, spero che vi piaccia. Ci vedremo volare per noi. Maria Adele Piano. Un passo, me voy para sempre, un passo fuerti, un passo hacia delante. Un passo, me voy per noi. E quando volveras, quando volveras, un dia o jamas E quando volveras, quando volveras, quando volveras, e tutto ne m'attende pas Quando volveras, un dia o jamas Grazie a tutti Maria Adele, piano, vieni al centro Maria Adele Perché abbiamo la consegna di questo riconoscimento per te E tu sai quel gioco che stiamo conducendo stasera, no? Per chi cammina come te in un percorso già consolidato E' ancora ricco di soddisfazioni da guadagnare C'è anche chi tra poco avrà modo di muovere, non i primi passi Ma di dimostrare che si sta andando a cominciare E intanto ti consegniamo questo riconoscimento E ti ringraziamo Auguri per tutto Grazie mille Grazie mille Grazie mille